Ciao a tutti, sono Martina della Samovar Viaggi e mi trovo a bordo di Costa Smeralda. Adesso sono sulla coppa della nave, precisamente su uno dei tanti solarium presenti a Borgiola. Scendiamo. Scendiamo. Questa invece è Piazza di Spagna, una specie di teatro all'aperto. Scendiamo. 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 Questa invece è l'entrata del Luna Park e dei bambini, come vedete è un bellissimo spazio. Spero vi sia piaciuto, vi aspetto a volto di Costa Esmeralda, ciao! Grazie per la visione!